Tappa foggiana per l'olio DOP impegnato in un tour nazionale nella cornice di casa fredda immersa nell'incantevole paesaggio da uno produttore, ristoratore e diversi chef del territorio hanno discusso anche a Foggia sulle norme potenzialità del loro verde. L'olio extravergine d'oliva, la sua ricchezza, la nostra fortuna, questo è il claim dell'iniziativa che ha visto padroni di casa e rappresentanti del consorzio DOP Daunia Verde, Antonella Bombacigno e Domenico D'Apolito rispettivamente direttore e presidente. Promosso dal MIPAF, l'evento Foggiano ha sviluppato una serie di approfondimenti sulle proprietà organolettiche delle quattro straordinarie tipologie d'olio presenti in Capitanata. Il Ministero ha voluto dedicare un mese alla promozione dell'olio extravergine per sensibilizzare i consumatori sulla lettura dell'etichetta, per conoscere le caratteristiche nutrizionali, le varietà, l'origine e la tracciabilità del prodotto. Tra degustazioni e assaggi di piatti gourmet a cura di quattro chef dei più noti ristoranti del Capologo D'Ano, l'olio DOP è stato il protagonista assoluto della tavola, capace di esaltare i sapori e i profumi di un intero menu culinario, dai primi piatti ai dessert. Obiettivo dei consorsi DOP è lanciare l'oleario Made in Italy anche in nord Europa, laddove attualmente il prodotto spagnolo, inferiore rispetto al mostrano, la fa da padrone sul mercato.